porca troia è caduto uno di noi pronto adesso arriviamo ma è grave è grave è grave ma dov'è aspetta 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 prendi sul tutto l'effono prendi sul tutto l'effono stacca il cavo dai basta e cosa cazzo facciamo adesso? io trovo lo spazio e mezzo perché non posso stare in piedi si noi andiamo la adesso andate la da loro e andate la mano oh daniel dai dio poi 5 minuti come è? no 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 che è andato addosso il muro e poi io l'ho visto che era in stella un moto di tazzo si si e lo so però dobbiamo capire dove si è iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, finché fa il deficiente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passare dalle montagne all'ospedale, punto soccorso, bellissimo. E così finisce la giornata. Ambiguissimo il cane che si incula la coccinella. Aggiornamento. Aggiornamento. Sono andati via tutti. Sono andati via tutti. C'è? Daniel è caduto verso le 10 e mezza, 11 e mezza. 11 e mezza forse. Un'ambulanza. E Vanessa in tutto ciò. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. dopo tre ore? Dopo tre ore? No. chiamate il numero giallo per la moto gialla. Perfetto. 62 euro per un collare. Per un collare. Dopo cosa ci fai un collare? Mi ricordino. Eh? Ne vado fiero. Non so vado che stai prendendo il passo, eh. Questa bezzosina qua. Ma la gente che magari ci guarda... Si. La gente che ti guarda... Che è con una moto di merda? L'unica che è rimasta. Almeno intera. dentro nelle moto di merda. Ah 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 ah. Partirono. Partirono. Partirono in sette moto e ne rimase una. Raga, condividete. Vogliamo i Sheld. per moto nuova. Facciamo una live. Vogliamo i Sheld. Non ci caga nessuno. Non ci caga nessuno. Non cagano. I'm a heavyweight I'm a heavyweight